Via libera dalla cabina di regia, il governo avvia la fase post-covid. Il 31 marzo decadrà lo stato d'emergenza legato alla pandemia e dal 1 aprile diremo addio al comitato tecnico scientifico e finirà l'era del commissario Figliuolo. Da quel giorno inoltre non sarà più necessario il Green Pass in hotel, nei negozi, nei musei, alle poste e in banca. Servirà ancora per accedere a bar, ristoranti, mezzi di trasporto pubblici e stadi, ma solo quello base, cioè ottenibile anche mediante tampone. Dal 1 maggio invece niente più mascherina al chiuso e cadrà totalmente l'obbligo del certificato verde. Dal 15 giugno infine insegnanti, operatori sanitari, forze dell'ordine e over 50 non saranno più costretti al vaccino. E oggi in Abruzzo non diminuisce il numero di nuovi casi ma scende quello dei ricoveri. Sono 2.208 i nuovi contagiati, il tasso di positività è del 14% e considerando un decesso recente e 586 guariti, gli attualmente positivi nella nostra regione sono 35.041, 1.616 in più rispetto a ieri. Di questi, 263 pazienti, 11 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica. 11, 1 in meno rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 34.769 positivi accertati, 1.628 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Dei nuovi casi di oggi, 506 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 562 a quella di Chieti, 440 al Pescarese, 611 al Teramano, mentre 41 dei contagiati provengono da fuori regione e per altri 43 sono attualmente in corso verifiche per accertarne la provenienza.